Siamo entrati all'Orido di Bellano. Questa è la chia del diavolo, non avevamo modo di spendere 10 euro in più a destra e guardiamo solo l'Orido. Orido di Bellano, qua lì in fondo è la chia del diavolo. Orido di Bellano, qua lì in fondo è la chia del diavolo. Orido di Bellano. Orido di Bellano, qua lì in fondo è la chia del diavolo, qua lì in fondo è la chia del diavolo. Orido di Bellano, qua lì in fondo è la chia del diavolo. Orido di Bellano, qua lì in fondo è la chia del diavolo. Orido di Bellano. 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 Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.